Buongiorno e ben ritrovati. Quest'oggi vi parlerò di una figura femminile dimenticata. Si chiamava Giulia Venturi degli Ammannati. Chi era mai Costei? È un personaggio di un certo rilievo, essendo stata madre del grande Galileo Galilei. Eppure è una figura femminile trascurata. Quest'oggi ve ne parlo. Giulia nasce a Villa Basilica, siamo in Lucchesia alle falde delle Pizzorne. Forse nasce nel 1538. Nasce nell'ambito di una famiglia di commercianti di legname e quindi con una certa disponibilità economica. In giovane età incontra tal Vincenzo Galilei, pisano, nato più specificatamente a Santa Maria al Monte, di professione musicista. Suona la viola, suona il liuto, compone dei madrigali. Insomma, per farla breve, i due si sposano nel 1562 e si trasferiscono dove? A Pisa, nella casa della famiglia di lei, in una strada che oggi si chiama Via Giusti. Siamo di fronte oggi al tribunale pisano. Nella dote che Giulia ha dalla famiglia, accanto ad una discreta somma di denaro, compare anche un anno di vitto e alloggio gratuito. E mentre sono in Via Giusti, nell'attuale Via Giusti, come si chiama, oggi nasce dalla coppia il primo genito. È un maschietto al quale viene dato il nome di Galileo. Scaduto l'anno, la famigliola si sposta in una zona più centrale di Pisa, più commerciale, più popolare. Si chiama Borgo Stretto. Lì Vincenzo può seguire meglio gli interessi della moglie, gli interessi commerciali dell'attività di famiglia e della moglie, pur continuando a alimentare la propria professione di musicista. In quella casa nasceranno poi altri figli, alla fine saranno altri due maschi e altre tre femmine. Per cui la famiglia ampliata, le attività commerciali legate appunto alla tradizione di famiglia, ai beni di Giulia, l'attività professionale di Vincenzo, quest'ultimo in casa a Pisa. Ci sarà poco, richiamato anche dalla capitale del regno che è Firenze, dove ha maggiori possibilità di ingaggi e di attività professionale. Pertanto Giulia resta in Borgo Stretto con questi sei figli seguendo l'andamento della casa. Fino a che nel 1574, essendo ormai da troppo tempo in Firenze trattenuto Vincenzo, Giulia si trasferisce nella città del Fiore con i sei figli e la famigliola trova casa in una zona magari in quel tempo meno economicamente cara, per cui di Laddarno, nella zona di Piazza dei Mozzi, forse in una casa dei torrigiani, perché i torrigiani lì avevano numerosissime proprietà. Il figlio Galileo, già in età scolare, studia, prosegue gli studi privatamente in via dei Bardi. Nel 1589, tra l'altro, Galileo trova il suo primo impiego professionale in quel dell'Università di Pisa. Il padre continua nella attività di musicista. La madre Giulia segue attentamente la famiglia. Fino al 1592, quando Vincenzo Galilei muore e la madre Giulia prende in mano le redini della famiglia e si rivolge con decisione al figlio primogenito Galileo, al quale chiede di farsi carico della famiglia. Lui, come primogenito, è divenuto capo famiglia. Lui si deve preoccupare delle spese, dell'economia della famiglia. C'è da pensare alla casa, c'è da pensare alle necessità quotidiane, c'è da pensare a costituire il corredo per le figlie che si stanno avviando all'età da marito. Di tutto questo si deve fare carico Galileo. E le esistenze saranno tali da parte di Giulia che forse costituiranno uno dei motivi perché Galileo, nel tentativo di tagliare questa sorta di cordone ombelicale con la madre Giulia, particolarmente insistente ed invadente, lascerà Pisa per l'Università di Padova. Ma questo non scoraggia minimamente Giulia, la quale comincerà a bombardare di lettere contenenti continue richieste sempre di denaro al figlio lontano, non solo. Ma poiché ne sono giunte alcune voci particolari, lo fa pedinare e scopre che lui si accompagna con una donna veneziana già maritata, tal Marina Gamba e che anzi da questa illecita unione è nata una figlia Virginia e poi saprà che ne sarà nata una seconda, Livia, e un terzo, un maschio, Vincenzio e che quindi il figlio non è un buon cristiano. Anzi, questa affermazione di Giulia diventerà una sorta di testimonianza in un primo processo di fronte all'inquisizione che Galileo deve affrontare, accusato non di aver studiato chissà quale pianeta o quale rivoluzione del mondo, eccetera, ma semplicemente di non frequentare la messa, di non essere un buon cristiano, di accompagnarsi con una donna maritata ma da lui non sposata. E quindi addirittura Giulia numerose volte farà dei viaggi a Padova per richiedere delle risposte precise e concrete al figlio il quale alle lettere non risponde e in uno di questi viaggi tornerà a Firenze portando con sé le due nipoti, Virginia e Livia. Ma la nonna Giulia è una nonna un po' particolare come è stata una madre e come è una madre particolare per cui la convivenza fra nonna e nipote è veramente impossibile tant'è che il padre lontano da Padova decide di spostare le due figlie in convento e poi lì di monacarle. Un passaggio di una lettera di Michelangelo, uno dei figli di Giulia, al fratello Galileo a questo suona in questa maniera di nostra madre intendo con non poca meraviglia che sia ancora così terribile ma poiché è così discaduta ce ne sarà per poco sì che finiranno le liti. E infatti Giulia muorirà nel 1620 in quel di Firenze vicino a Piazza del Carmine dove ha abitato negli ultimi anni nella casa di una delle sue figlie. Giulia verrà sepolta nella vicina chiesa fiorentina del Carmine. C'è una piccola particolarità curiosa in questo anno 2020 che riguarda proprio questa coppia Giulia e Vincenzo. Vincenzo è nato nel 1520, quindi 500 anni fa. Giulia è morta nel 1620, quindi 400 anni fa. Concludo su Giulia Venturi degli Ammannati. Dicendo questo facendo come una sorta di considerazione. La storia è come il teatro. Gli attori salgono sul palco ma quello che accade dietro le quinte non è meno importante per il buon risultato dello spettacolo. È come in una casa. Ogni mattone ha la sua importanza. Così è per Giulia. Federico Napoli vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie. Grazie.